bella ragazzi bella di padella interessante questo dalla ragazze siamo capisci in qua e due lanci a spinning non si tratta non ti chiede via nessuno chissà se riusciamo a canciare qualcosa di recente c'è una rosetta sotto ciao ragazzi ciao a tutti stiamo facendo due passate a spinning più una fondo mentre un po passo a fondo e bolognese vediamo che cosa combiniamo vediamo segnalatore qua molto easy lo posso vedere qua scatta e va così vediamo se riusciamo a gestire due pescetti pescatori di tito che bella ragazzi vediamo se riusciamo a canciare un persicuzzo mentre aspettiamo la canna a fondo niente andiamo a cacciavista se riusciamo ma c'è sempre la cannuzza la vedete la vediamo il da farsi questo è enorme ragazzi è enorme proprio questo non è enorme di più questo lo gancio subito no non mi ha cagato proprio ma adesso è grosso sarà mezzo chilo ecco ho fatto la cagata sarà mezzo chilo possa anche un chilo niente non riesco a tirare bene scusate le bestemmie ma c'è un persico enorme proprio di sotto e vorrei agganciarlo non mi ha guardato neanche in faccia ancora lì è continuano quello che appunto prima è di esercizio due su due no leggermente mosso niente prima uno l'ho forato ma non credevo che fosse questo peccato ma l'ho appena dovrei avere biglietti piziali a forma di libellule perché non so se li vedete ma è veramente murato di libellule murato murato interessante questo questo qua non so diciamo agganciare qualcosa si sta ragazzi si sta allora gli ho visti due sono piccolotti però potrebbe potrebbe cascarsi proviamo vediamo ai nostri spaventato però non è detto ecco a niente se che stiga però lì vede di vuol dire che sono in caccia perché uno c'è dato dietro un po vediamo se mi ha dato la bava questo mi era niente è un pelo più sotto bello così no vediamo un po qui così ingavagnato va bene buongiorno a tutti ragazzi tornata decisamente calda buongiorno a tutti ragazzi buono lì abbiamo assaltato di nuovo di sotto ecco l'ho visto tiriamo su velocemente venga bagnato di nuovo neanche se spingere in greco può fare questa cosa qua ecco qua l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'è è mio no è scappato invece di tazzo che bagaglio aia albero allora lì e ancora lì che ragazzo ancora le potrei ancora insidiarlo bene ecco la faccita dietro no la rifiutato ah che pazienza è lì 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 l'ho visto 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 è visto no teniamo verso la canna a car fishing vediamo vai piano ciao fabio grazie per chi mi lascia il like vi ricordo che siamo anche su facebook instagram su invito e youtube abbiamo cambiato perché abbiamo trovato da dire con google prima era full time e pesca su youtube adesso è monster steve fishing forse un giorno cambieremo di nuovo e vi ha ricominciato tutto di nuovo su youtube siamo anche su tweets però diciamo che siamo forti qua e facebook solo con nome full time e pesca perché ci vuole seguire il benvenuto ciao ragazzi benvenuti tutti ciao 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 un pesciolino però con la paletta rottante andiamo qua qui aspettiamo sempre che parti a fondo se riusciamo a giocare dai cambiamo ciao 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 No, che caldella però. Una bella caldella però. No, che caldella però. Bella ragazzi, un distintivo, non so cosa sia ragazzo mio, ma ti ringrazio col profondo del cuore. E' qui. Un attimo. E direi che... Voi direte, ma col frumento? Sì. Proprio col frumento. E vediamo chi becchiamo. Salve a te. Vediamo il da farsi. Grazie. Grazie per chi mi si iscrive ragazzi. E vediamo un po' cosa andiamo a prendere. Allora, qui a fondo sto pescando a carpe. Con le boys. E di là col frumento poi ogni tanto ci do... Ci do... con lo spiini. Lo spiini. Sì. E di mia sorella. E praticamente... ti pesco solo io. Non è a pago perché l'ha rilevato lei ed era stato abbandonato da 25 anni. Perciò di fatto non sanno neanche bene che cacchi di bestie ci sono sotto. Benvenuto a corneglia. Nome impegnativo. Allora, mentre le due mie cannine sono pronte... Allora, voi non ci crederete ragazzi eh? Perché ovviamente voi dite... Che minchia state facendo? Spero che ti tocchi il numero segnali ma qua dentro... I bus più grossi... L'ho preso con questi. Voi direte... Ma che cacchio dici? Eh purtroppo è vero. Io non so perché... Ma i bus più grossi l'ho preso con questo qua. Oh! È così la vita! Questa è la via! Là c'è il ristorante... Non è grandissimo però... Per uno solo... Ci sta tutto... Poi ha resistito all'alluvione... Da ciò va bene così... Dai io mi dilato sempre a pesca... E invece qua. Au lì... Mi teng SA! Niente... No, no No... 要... Lo puro... Che cosa leue da costo micidade new... Ovendere. Grazie. Grazie. Ho visto un leggermente una manzatina qua. Sto pescando a carfishing, petardi, è di mia sorella, cioè diciamo che è della famiglia. Ho preso un bash piccolo e mi è andato via uno veramente grosso, ancora lo vedo lì, però ormai è stato punto, oggi non lo vediamo più. Assolutamente che c'è un affa ragazzi che è affissimo proprio. Vediamo se ci sono rimaste, sì. Ci sono, eccolo qua, perfetto. Ci sono già un po' sprantumate, che è quello che mi interessa a me. Grazie. 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 Oh oh. Uh, interessante ragazzi, ho visto. Ho visto un contenamento dell'esca, ma... Ho visto un contenamento dell'esca, ma... Ho visto un contenuto dell'esca. Vedete qua sta la canna a fondo, con il segnalatore acustico. Così se parte... O almeno la sento. Nooo. Mi è andata via di brutto proprio. Tutto proprio. Tutto proprio. No buono questo. No buono questo. No buono questo. No buono. Però, mi ha fatto vedere che sono sentita, se non erano... Se non erano... Se non erano le acquatelline, ci può stare. Sì. Sì. Sì, sì. Sì. Una bella affondata, ho dato. No questo non mi piace. Questo non mi piace di più. Eccolo. 58 live ragazzi ci siamo vi ricordo che siamo anche su facebook di toc twitter tweet instagram però dovete chiedere l'amicizia sempre con full timer pesca invece youtube abbiamo dovuto cambiare youtube ci chiamiamo monster steve fishing ma trovate il link in descrizione perché abbiamo litigato con youtube google strano non è che eravamo in molti però abbiamo dovuto ricominciare da capo allora il pellet lo sto l'ho messo dentro al liquido del mais e lo sto facendo consumare perché qui è pieno anche di temoli russi incostarne uno c'è da divertirsi carpe tink storioni c'è un po di tutto qua ecco vedi quando io vedo queste cose qua mi viene da prendere mi viene da prendere questa perché mi viene da prendere questa qui e tiragli in coppa perché lì è soltanto un basso che almeno sarà stato ancora lì c'è un basso lì che almeno sarà stato un chilo questi infamoni tirano alle ribellule perciò se io mentre passo ti tiro una gran botta oppure lì è che sta guardando a me non aveva già presa aveva la pancia piena ok Grazie a tutti 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 Una piccola carpa Dai Questa però la tiriamo anche su così Non credevo che ci fosse così piccola Questa è riprodotta qui dentro È troppo piccola A fare il fenomeno ti fai male Sempre sempre sia così Sempre sia così Eh vabbè Ovviamente ferita la zoro contusa Una micro cartetta E' andata E' andata Piacere anche mia Mi sono fatto male E' andata E' andata No, è piccola No, è piccolo Lo faccio vedere Lo faccio vedere Là c'è il ristorante E' andata 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 Questa è sempre dentro Questa è sempre dentro Qua è Con cosa Con una colma Questa col mais Quella lì con la boys Mi metti apposto la cima Che se ne sono un po' imbarzata Quella lì con la boys Poi ho fatto a spinning Con un baguino Un zavaglio grosso Ne ho sbagliato Uno è stato mezzo chilo Però lo punto Fatto Passano i tostolobici enormi I tosti Vedo verso Da vicino in poi Girono tutte galla Ma anche adesso Guarda qua Andi vediamo Non ce ne sono Guarda quanta gente Guarda qua Lo vedi qua sopra Qui 55 Ma perché sei in diretta Eh sì eh Diretta online Da full timer pesca Nel lago segreto Ma anche il microfono attivato Sì sì Parlo con la gente proprio Ho litigato con Con YouTube Ho dovuto ricominciare da capo Bastardi Come mai? Eh perché sono dei bagagli Si vede che sono un po' in crisi Ravannano il fondo Mi devono 100 euro Ha fatto di tutto Mi hanno detto Sai cosa ti dico Adesso ricomincio Vi rilascio Questo Questa cosa qua Questo è micidiale Non credevo Questo Guarda tosto Questo Questo è tremendo È tremendo Cioè quello grosso È venuto su subito Avevo provato prima Con altri due o tre Ho messo questo Guarda l'altro tosto La due Sì 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 Ma no Ieri ho buttato l'occhio Alle cinque Ho visto che è rotto Di gallo Ma ogni tanto Fa le loro tragiche Comunque si vede Che sono cresciuti Sono più pienotti Quindi hai fatto di Lancia e sping Nei fatti Sì sì Quello è che è legante Sì Ma si muove di brutto Con questa cosa dietro Ma non è calato neanche tanto Che dovevo peggio Ma insomma Possiedi dire che era pari al tubino rosso Sì Era pari là Ma qua si sta bene Io lo dico Le nonne Che dovevo venire a salutare Ma hanno detto Ah ma Da sole Vabbè Cioè lì Libera È un laghetto privato Praticamente non ci va nessuno No sto parlando con Il Teo Guarda i tosti belli Sì Allora quelli che ho visto sono almeno 6 o 7 Ce n'è veramente uno che gira da solo che è enorme Il più grande Però si vede che Se venite su da lì da mangiare Perché li vedo un bel più nutriti Non è che si va al laghetto di Bubano a portarsi sui bassi da un chilo Non si sa Ah ma quello ci dovrei sempre lottare Ripetisco Se non li fai fuori negli altri lag Guarda guarda che ha saltato il bass Là che dà Dovrei avere un artificiale A libello Lo fai secco subito Lo fai secco subito Qua Ah sì sì ma ci danno di brutto Sulle ribellule ci vorrebbe un artificiale rosso Purtroppo mi sa che glielo lasciate a casa No purtroppo sicuro Questo era pesante Ah non lo so Ho sentito come se avessi beccato il fondo Poteva essere anche un tosto L'ho sentito bello Bello duro Angelo duro L'ho sentito proprio Non so Prendi la canna Da spinning Vest Prendi la canna Vedi che oggi è veramente una gran caldella ragazzi Grazie. Grazie. Sto cacchio, adesso l'ho preso questa. L'hai preso? Anch'io. Che cos'è? Cosa l'hai preso? Quello suo piccolino con i gatti. Il topo? L'hai preso col topo? No, no. Guarda che anche questa carpa qua non è grande. Quello si vedeva. Guarda qua che carpuzza. Ma questa è messa dentro te. Ah però. Bello. Questo è crescito qui. Questo è bellino. Questo ha mangiato l'acquadelle. Eh sì. Tiralo su che lo facciamo vedere. Non so come è messa la... No, non lo baggo per questo qua. No, no, ma intanto bagnano per questo qui. Questo qua. Eccolo. Bel pezzo. Un saluto da full timer pesca. Ciao ragazzi. Oh, e dire che è un coglione. Mi aveva anche visto. Sì, no vabbè. Più che altro se mi dai una mano qua. Quello come faccio? Prendi quello dell'ertino grosso tanto ormai. E si è bagnato? No, ma non importa. Il topino non è ancora usato. Il topino non è il ragno, ma il gatto. Eh? È il ragno. Ah, è il ragno, è vero. Il topino... E' piccolina però. Ah, posala qua. Un po' tirano, eh? Sì, sì. In proporzione. Ah, tal degla. Si vede che l'acqua è buona e poi vengono punte poco, perciò ci sta tutto. Un saluto da Full Timer Pesca. Vai ragazza. Divertiti. Cacchio preso. Ma cosa ho preso? Ah, va va va. Dicevo, cos'è che ho preso? Ah, meno male. Eh sì. Io però con quelle gommine lì, devo dire la verità, non ho ancora preso niente. Ah, dai che poi... Ah, dai. Ah, dai. Ah, dai. Ah, dai. Ah, dai. non ho capito il basco preso per me sono i portati anche dall'altro lago crescono ormai un anno o no io le uso più corte fosse quello il problema acqua è una dietro l'altra non so perché le trote sono già finito da un pezzo o no troppo caldo ma c'è il piumo davanti o è neutro non è un pentino io lo vedo non so perché non so perché anche questo è mignone non so perché no è un gatto uno strano? si bello lo tieni o lo butto? ah lo rimetti bene? ah si si solo se sei un americano non lo rimetto ma quello è uno strano è dal dago vecchio ma è grande? ma porco calcio è grande guarda che per essere lo strano è rotto lo so lo pesce dentro la metà di questi guarda guarda si si e anche qui siamo un saluto da full timer peschia ciao ragazzi bello bello e adesso ragazzi guarda a merda l'hai limitata per tabacco ma chi è che fuma ti tocca? beh ma anche ti tocca certe volte da degli sbraghi come se ne prendo un'altra piccola mi sposto mi sposto mi sposto metto la box qui sotto no ma la roba no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah non l'ho visto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia Che affa che sta venendo su Grazie a tutti 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 Ma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti